Un ragazzo che fa 20 gol, quindi merita sicuramente questa occasione, un ragazzo serio, un ragazzo che viene dalle giovani del Milan e quindi stiamo parlando di un giocatore forte che poi con Zeman può sicuramente, con il gioco di Zeman può sicuramente ancora migliorare. Dove può migliorare ancora? Dove Zeman può andare ad incidere su questo ragazzo? Su tanti fattori, lui è un ragazzo che lavora molto per la squadra, è uno che si impegna molto, che ha una grossa qualità, che ha la resistenza, la capacità fisica. Lui è un giocatore che riesce a fare bene tutte e due le fasi e quindi è molto importante per lui. Poi quest'anno ha iniziato anche a fare gol perché non ne ha fatti mai tantissimi lui, è un giocatore forte che sicuramente potrà fare bene anche lui. Quanto c'è di palladini nell'esplosione di Mancuso, visto che come dicevamo prima non ha mai segnato caterve di gol? Ma da parte mia c'è stata solo la fiducia che gli ho dato, gli ho dato grossa fiducia perché poi questo ragazzo è venuto in ritiro e in prova. Non è stato tesserato subito, io lo conoscevo, me ne avevano parlato bene, tant'è che dopo due giorni per me poteva anche firmare. Casi strani del calcio. Lui infatti è andato via a scadenza, cioè lui a parametro zero è stato acquistato dal Pescara, quindi il Pescara ha fatto un grosso affare.